Come ha avuto l'inizio dell'invasione ucraina da parte della Federazione russa? A sorpresa del Presidente degli Stati Uniti Biden possiamo riaffermare la centralità degli Stati Uniti nel far fronte comune, nell'unire il fronte delle democrazie occidentali sia in occasione dell'imposizione delle sanzioni sia in occasione del coordinamento degli aiuti militari e non verso l'Ucraina. Il secondo elemento è anche la tenuta dei paesi dell'Unione Europea che seppur con qualche tentennamento qui e lì sulla modalità di erogazione e dell'ampiezza delle misure di aiuto all'Ucraina hanno risposto in maniera abbastanza pronta. Il terzo elemento potrebbe essere le difficoltà della Russia da un punto di vista militare e la difficoltà nel progredire nell'invasione e nel fare progressi nella loro avanzata all'interno del territorio ucraino. Allo stesso tempo con questi elementi emersi in maniera abbastanza chiara rimangono tantissimi dubbi sugli scenari futuri. È difficile prevedere cosa possa succedere in futuro e come questo conflitto possa arrivare ad una fine che possa poi portare ad una pace duratura. Se da un lato la necessità anche di proseguire lo sforzo militare in risposta anche all'impegno sia del presidente ucraino ma anche del presidente americano Biden al mantenimento dell'integrità territoriale ucraina richiede e richiederà un continuo invio di aiuti nei confronti verso l'Ucraina questa necessità si potrebbe scontrare a medio e lungo termine con l'opinione pubblica nei paesi occidentali. Per quanto tempo i cittadini delle democrazie occidentali continueranno a supportare l'invio di armi nei confronti verso l'Ucraina? E allo stesso tempo qualsiasi soluzione al conflitto che preveda una mediazione, una soluzione diplomatica e quindi una trattativa di pace si scontra con la credibilità delle promesse che possono venire da parte della federazione russa e su quanto qualsiasi impegno e qualsiasi promessa possa essere credibile negli anni. Quindi il dubbio sarà sempre quanto potrà durare questa pace e tra qualche anno potremmo ritrovarci nella stessa situazione in cui ci siamo ritrovati all'inizio, alla fine del febbraio del 2022. Quindi queste sono le grandi sfide che ci aspettano e che rendono il termine del conflitto in Ucraina e la possibilità di una pace di duratura abbastanza imprevedibile. Grazie 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 Grazie